Audio News Lazio Tutte le notizie passano da qui Finale allo Stadion Olimpico, la Lazio batte l'Inter 2-0 Jingle Spot Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141B Fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online La Lazio batte dunque l'Inter all'Olimpico 2-0 Azioni saliente Al 52esimo minuto succede di tutto in area nerazzura Keita salta Miranda e cade dopo un contatto con Medel Banti fischia e ammonisce il senegalese per simulazione Inzaghi protesta in panchine e l'arbitro espela addirittura l'allenatore biancoceleste Al 68esimo minuto Jovetic serve Perisic Che prova il diagonale a Rasotera che non inquadra la porta Quarto ammonito in casa Lazio con Lulic Che finisce sul tacuino di Banti per proteste 71esimo minuto Angolo di Brozovic Sponda di Icardi su cui Jovetic In spaccata non ci arriva per una questione di centimetri 74esimo minuto Crosti Icardi della destra Sul lato opposto arriva Perisic Che mette dentro una pala velenosa Su cui nessuno riesce a intervenire Facendo venire i brividi a Marchetti 76esimo minuto L'Inter ancora in pressione alla ricerca del pareggio Punizione a girare di Perisic Marchetti attento e respinge con i puni 79esimo minuto Cross di basta dalla destra Miranda bucca all'intervento Mauri fa da sponda per Lulic Che tira dal limite trovando il corpo di Miranda 83esimo minuto Rigore per la Lazio Biglia ruba palla con Dogbia E serve Keita che supera Murillo E viene steso in area Penalti per la Lazio Rosso per il Colombiano 84esimo minuto Gol Visto che Candreva Trasforma il rigore di potenza Sotto l'incrocio dei pali Raddoppio della Lazio dunque Il centrocampista laziale Esutta sotto la curva nord Togliendosi la maglia E rimedia un cartellino giallo La Lazio batte dunque L'Inter 2-0 all'Olimpico Agenzia del Mago Alberto In via Candia 141B Consigli del Mago in sede E schedine già pronte E giocate per voi Fantastico bonus di benvenuto Sull'apertura del vostro conto online Agenzia del Mago Alberto In via Candia 141B Il posto migliore Dove passare alla cassa Il posto migliore